Arriva a Pavia dal 6 al 12 maggio la grande mostra che cos'è l'uomo perché teni ricordi genetica e natura umana nello sguardo di Jérôme Lejeune dedicata allo scienziato francese scopritore della trisomia 21 la causa della sindrome di Down L'opera realizzata e presentata per la prima volta al Meeting per l'amicizia tra i popoli 2012 di Rimini sarà esposta nel capoluogo pavese in due differenti luoghi dal 6 al 10 maggio nell'androne di Palazzo Botta presso il polo di ingegneria mentre dall'11 al 12 maggio presso il cortile volta del Palazzo Centrale dell'Università Assessore ai Servizi Sociali Sandro Assanelli che cos'è l'uomo perché teni ricordi genetica e natura umana nello sguardo di Jérôme Lejeune una mostra a Pavia qual è il suo significato? La mostra a Pavia è intanto dal 6 al 12 maggio dislocata in più punti dal 6 al 10 maggio in Palazzo Botta 2 che è via Ferrata nel polo di ingegneria e dall'11 al 12 di maggio al cortile Volta Palazzo Centrale via Strada Nuova 65 Pavia ecco una mostra che è stata portata al Meeting due anni fa che ho visitato ed è una mostra veramente molto molto bella ma per il significato perché parla della vita di questo grande scienziato Lejeune che ha scoperto la sindrome di Down e ha dedicato tutta la sua vita per sconfiggere le malattie genetiche e i suoi studi sono di un'attualità impressionante è una mostra che io vorrei che andassero tutte le persone a Pavia a vederla, veramente è interessantissima perché ci fa capire anche la bellezza è prescindibile delle persone che noi riteniamo disabili o che noi riteniamo diversamente non colorabili sono una ricchezza per tutti e in questa bellezza spica questa figura di questo grande scienziato che con la sua umanità e con la sua forza ha saputo valorizzare proprio tutte queste persone che sono ritenute fragili soprattutto i Down personalmente poi ho potuto anche incontrare la sua famiglia e devo dire che l'umanità con la quale visitava con la quale visitava le persone con la quale trattava le mamme con la quale trattava i familiari era veramente eccezionale lui visitava i bambini prima di tutto visitava i bambini li prendeva in braccio li guardava, li scrutava e diciamo era il vero ricercatore ma un ricercatore appassionato e questo mi ha veramente colpito perché poi lo si poteva vedere mettere, si poteva vedere e toccare concretamente quella della sua opera quindi è un invito veramente a visitare perché anche poi per la grande, grande, grande veramente intelligenza di quest'uomo e questa passione che aveva e adesso i suoi studi sono ripresi da una fondazione che è la fondazione Les Jeunes ma anche quello in Italia abbiamo degli illustri personaggi tra i quali voglio citare appunto il professor Strippoli che si occupano di questa sindrome e lo scopo è poter fare in modo che gli aspetti negativi di questa sindrome vengano eliminati Sì quindi Assessore una mostra di alto profilo un personaggio di altrettanto profilo cosa possiamo dire insomma al pubblico per invogliare e approfondire questa tematica? Ma per approfondire vorrei chiudere con un detto dunque di Les Jeunes dice Les Jeunes è proverbiale il costume degli spartani di eliminare i disabili alla nascita lo scopo era quello di arrivare a una razza superiore invece non fu così e resta il dubbio che Sparta sia scomparsa dalla storia perché eliminando i più deboli fisicamente finirono per prevalere i più stupidi o se perché essendo stupidi decisero di eliminare i più deboli ecco è un invito a vedere questa mostra perché si potrà vedere dunque la bellezza ancora dico è l'intelligenza di quest'uomo che ha fatto in modo che la medicina curasse la malattia senza eliminare il paziente grazie grazie Grazie.